C'è qualcuno in casa o ti aspetto? Ogni fine settimana ci riposiamo. Alcuni insetti vivono un solo giorno. Ho qualche speranza di vincere. Conosci alcuni dei suoi amici? Ogni sabato vado in discoteca. Faccio un regalo a ognuno di voi. Alcune di loro sono molto belle. Qualche settimana fa ho viaggiato. Conosco alcune parole in italiano. Ogni giorno vado a scuola in bici. Qualche volta Maria mente a tutti. Alcuni di loro vanno al cinema. Alcuni studenti studiano bene. Quanti di voi passeranno le vacanze in Italia? Quando ti svegli la mattina? Molto presto. Quanto costa questo libro? Quanti figli avete? Un maschio e due femmine. Dove abiti? A Madrid? No, abito a Lisbona. Come trovi i tuoi colleghi? Sono simpatici. Quali progetti sta realizzando la tua ditta? Quanto durerà il film? Circa un'ora e mezzo. Chi conosci a questa festa? Solo tuo figlio. Quanta gente è venuta all'inaugurazione? Da quanto abiti qui? Da cinque anni. Qual è il tuo sport preferito? Il calcio. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Quando hai cominciato a lavorare? A 22 anni. Io voglio andare al cinema. Tu che cosa vuoi fare? Noi dobbiamo fare la spesa. Voi potete preparare la cena. Claudio deve alzarsi presto. Lei deve essere a casa alle otto. Le mamme vogliono uscire. Lui non può uscire stasera. Io voglio studiare la lezione. Tu sai fare gli esercizi. Noi vogliamo andare al mare. Voi volete venire con noi? I cani devono stare fuori. Mia nipote vuole un libro. Io posso guidare l'auto. Noi dobbiamo essere puntuali. Gli studenti vogliono le vacanze. Tu puoi sempre mangiare. Il cameriere vuole la mancia. Il cameriere vuole la mancia. Non voglio stare dentro casa. L'autobus deve parcheggiare. Lo conosco da tanti anni. Vi ho invitati alla festa. È da un'ora che ti cerco. I libri nuovi li ho letti tutti. La pasta, la cucino a cena. La spesa, la faccio più tardi. Di pizze ne voglio cinque. La frutta non la mangio mai. Mi puoi aiutare, per favore? Li conosco tutti i tuoi amici. Di caffè ne bevo solo uno. Mi hanno telefonato spesso. Tua figlia ti sta cercando. Mi sono dimenticato le chiavi. Noi ci incontriamo alle tre. Noi ci incontriamo alle tre. Mio padre si alza presto. Non lo vedevo da due anni. Quella donna la conosco. Gli alberi li vedo dal balcone. È bello vederti dopo tanto tempo. Non dimenticarti di chiudere l'auto. Ti chiedo di pensarci su con calma. Ti piacerebbe andare in spiaggia. È importante inviare questo pacco. Dubito di essere puntuale stasera. Luca vuole cambiare la macchina. Ho deciso di anticipare le mie ferie. Domani è urgente finire il lavoro. Claudia non ha voglia di cambiare. Non so ancora cucinare bene. Penso di dover spostare l'auto. Ho visto uscire Paolo da scuola. Luca dice di aver perso le chiavi. Luca dice di aver perso le chiavi. La bottiglia è sul tavolo. Sei andato fino al teatro. Le mele sono sugli alberi. Quello è il cibo del mio cane. Mettete il sale sulle uova. Luca si guarda allo specchio. Non andiamo dallo zio oggi. Siamo all'uscita di scuola. L'anello mi è caduto nell'erba. Ci vado prima degli altri. La cena va sul mio conto. Dopo andiamo al cinema. Il coltello è nel cassetto. La luce della cucina non va. Un quaderno. Un esempio. Una casa. Un fiore. Una rosa. Un'orchidea. Una bambina. Un sogno. Un aiuto. Un lavoro. Un'amica. Uno zaino. Una carota. Un edificio. Una lezione. Una barca. Uno zio. Un cucchiaio. Una donna. Un dottore. Un'arancia. Un libro. Uno stomaco. Uno stomaco. Una moto. Un'opinione. Un treno. Una gonna. Un bambino. Un'opinione. 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 A chi hai dato la rivista? Non ho soldi, non ho mangiato nessuna patata, prendo un po' di zucchero. Non prendo pane, voglio dell'acqua, ecco del buon miede. Ho bisogno di dormire, ho fame. Qui c'è molto cibo. Hai speso troppo. Hai speso un euro di troppo. Vogliamo silenzio. Uomo Donna Genero Nuora Padre Madre Studente Studentessa Lettore Lettrice Autore Autrice Allenatore Allenatrice Sciatore Sciatrice Amico Amica Zio Zio Zia Zia Marito Moglie Maschio Femmina Fratello Sorella Cassiere Cassiera Pittore Pittrice Proprietario Proprietario Proprietaria Professore Professoressa Figlio Figlia Segretario Segretaria Scrittore Scrittrice Giuseppe 81 62 Dear Poistare Micro 77 72 79 59 66 67